Tortorella guarda avanti con fiducia, il rilancio turistico resta l'obiettivo principale. I progetti avviati non si interrompono nonostante la pandemia. A fine emergenza saranno realtà, ma occorrerà uno slogan capace di richiamare l'attenzione del mercato italiano e internazionale. Una frase che sappia rappresentare la magia e l'identità del borgo, che dai suoi 600 metri d'altezza domina le valli e le golli circostanti. E così, nel pieno della terza ondata Covid, nasce il contest Uno slogan per Tortorella, che si concluderà il 10 marzo. Il concorso, che è stato pubblicato sulla pagina Facebook Borgo di Tortorella, prevede la partecipazione con una frase da inserire nei commenti al post, seguita dall'hashtag Uno slogan per Tortorella, oppure inviando un messaggio alla pagina Facebook. Il vincitore sarà premiato con una targa il 21 marzo nella Casa Comunale, nel rispetto delle normative anti-Covid. Lo slogan, che dovrà essere lungo massimo otto parole, sarà scelto da una commissione di esperti in materia di turismo e comunicazione. Il popolo dei social ha iniziato a sfidarsi dando spazio alla fantasia. Con la riqualificazione del borgo, il rifacimento delle facciate e la nascita di sei nuove attività ricettive, che si aggiungeranno a quelle esistenti, spiega il sindaco Nicola Tancredi, Tortorella si prepara ad ospitare turisti che vorranno trascorrere giornate piene di attività in un posto immerso nella natura. Insomma, manca solo lo slogan per la ripartenza.